Ma chi è il possibile nuovo proprietario del club Viola e dove nasce il suo interesse per il mondo del calcio? Di Rocco Commesso si è parlato molto un anno fa quando entrò nella corsa al Milan e si sbilanciò pubblicamente manifestando l'interesse per il club, allora in mano ai cinesi, ma la sua offerta pubblica di acquisto era fallita. Il suo interesse per il calcio è di lungo corso, dicevamo, non solo per i Cosmos, storica squadra made in USA, ma anche per gli accostamenti alla Roma nel 2010 e alla Sampdoria. Insomma, la Serie A è tra i suoi obiettivi principali. Di lui, per sua ammissione, si sa che da bambino tifava Juventus, una macchia del passato che i tifosi Viola potrebbero mal digerire, o forse chissà. Commesso è il proprietario di media come il quinto gruppo di TV Via Cavo d'America ed ha un patrimonio stimato di più di 4 miliardi di dollari e 4.000 dipendenti. Emigrato italiano, nato in Calabria e spostatosi negli Stati Uniti con la famiglia a 12 anni, si è pagato gli studi lavorando nella pizzeria del padre per arrivare a laurearsi alla Columbia University, di cui è parte della Hall of Fame e il cui stadio alla periferia nord di New York gli è stato intitolato. Quella cui Cosmos è stata la sua unica avventura nella gestione di una società sportiva, almeno fino ad oggi.